Dal 6 luglio al 31 agosto 2023 questo è il periodo di saldi estivi nelle marche. Noi oggi ci troviamo in centro a Pesaro per andare ad ascoltare il parere dei commercianti in merito a questo particolare momento. Allora noi siamo sempre carichi perché comunque cerchiamo di agevolare anche chi vuole comprare nei saldi. Abbiamo una politica un po' diversa perché abbiamo un prodotto un po' più alto come tipologia di prodotto perché il nostro prodotto è tutto made in Italy, è fatto da noi perché viene fatto a Fabriano quindi comunque è un prodotto che la maggior parte è continuativo però in alcune cose diamo comunque anche delle offerte sul prezzo e quindi faremo degli sconti sempre i soliti il 30, il 40, il 50. Siamo alle porte del 6 di luglio che è un appuntamento importante per molte persone che desiderano fare gli acquisti a un prezzo conveniente, invece per voi che momento è? Allora in realtà nonostante siamo alle porte dei saldi comunque è un momento abbastanza dove vendiamo molto bene principalmente perché l'estate è arrivata un po' tardi quindi è un momento un po' clou dei costumi copri costumi, cappelli di paglia, borse di paglia e abbiamo delle aspettative molto alte proprio perché nonostante ancora non ci siano i saldi comunque vendiamo molto bene le aspettative sono molto alte per quanto riguarda appunto tutto quello che è il mondo costumi e mare. Siamo contenti della stagione per l'occasione domani sera rimarremo aperti anche dopo cena iniziano i saldi ci cerchiamo di spingere al massimo per riuscire a liberarci degli ultimi articoli e ripartire ad agosto con la collezione invernale insieme. Ma è un momento importante sicuramente per la clientela ma soprattutto per i commercianti che in questi giorni poi riescono a fare degli incassi un pochino più importanti il momento non è facile però devo dire che non ci lamentiamo. Tendenze invece per quanto riguarda il periodo primavera e estate 2023? Le tendenze, vabbè il colore sono state caratterizzate molto dal colore infatti noi abbiamo fatto abiti abbastanza colorati anche stando anche sulle basi del classico blu e nero però diciamo che quest'anno è esploso molto il colore dal giallo, dal rosso, dal verde. Ma diciamo che la cerimonia è andata molto bene, sta andando bene ovviamente nel periodo dei saldi uno, un cliente, si toglie quello sfizio, si toglie quella camicia particolare, quel pantalone particolare ad un prezzo estremamente conveniente. L'estate 2023 ha già provato a carpire quale potrebbe essere il trend per questa stagione? Pantaloni corti, cotone e lino, costumi, le cose che servono ai nostri clienti per finire l'estate. Sicuramente andranno tantissimo i costumi perché è proprio questo il momento e molto agli accessori quindi appunto le borse, i cappelli vanno tantissimo e poi abbiamo anche molti turisti che sono sempre alla ricerca appunto del cappello, dell'accessorio, più che del costume il turista ricerca proprio l'accessorio. Quello che va è il colorato, il nero in questo momento io parlo sempre di costumi è quello che viene un po' meno ricercato, piace molto il colorato, che sia tinte unite e meno fantasie. un verde acceso, un viola, fucsia, comunque tutti i colori accesi.